...e che riguarda in questo momento, dopo tutti questi mesi, dove abbiamo speso tantissimo come gruppo e per giocare una rega che per noi era sempre, non solo, eravamo anniversari di propria mentalità fisica per arrivare là, ma proprio anche come energie di un gruppo pieno di giocatori, di gente che era la prima volta che partecipava a una competizione. Quindi questo è un senato che il desiderio porta la loro iniezione di un giocatore che adesso di nuovo ha voglia e ha fame importante, ma questo è possibile perché in tutto questo periodo ci siamo venuti con un gruppo di giocatori di grande maturità e penso a Lina che in questo momento è stato fuori queste due partite, veramente continuando a dare contributo con Sede, Renan, sono persone speciali in quelle che stanno fuori, per cui questo sicuramente... ...e che è un buon clima all'interno della squadra e tutti sanno che hanno portato il loro mattone e sanno che se noi facciamo bene e andiamo avanti merite veramente di tutti in una stagione così. Quindi sicuramente ancora una volta deve sostenere la distribuzione dei meriti per i giocatori e anche per i nostri. Molto bene.